Eccoci qua con Niccolò Agliardi, cantautore e compositore amico di San Patrignano. Ciao Niccolò, la musica è sempre stata la tua passione? Sì, credo di sì. Diciamo che è stata la prima passione che sono riuscito a concretizzare. Prima l'ho fatta diventare un hobby, ovviamente, da passione a hobby, però non passa tempo, proprio hobby, cioè lo facevo non per passare il tempo, proprio perché volevo costruire. E poi diciamo già a 21-22 anni è diventata un lavoro e poi è stato un po' lavoro, un po' impegno, un po' sacrificio e poi diciamo che verso i 30 anni è diventata fatica e soddisfazione, tutte e due insieme. Ok, e adesso sei anche scrittore perché hai appena pubblicato il tuo secondo romanzo. No, no, non diamoci definizioni che non sono opportune. Ok, qualcosa sul tuo secondo romanzo? Allora, non sono uno scrittore, anche se vabbè, formalmente su un contratto c'è scritto quello, però no, non sono ancora quella cosa lì, non sono così bravo. E ci ho provato, l'ho fatto con l'aiuto di due complici importanti, uno era con me a San Patrignano che Andrea Amato, l'altra una ragazza che si chiama Maria Cristina Olati, che mi hanno aiutato a compattare una storia bella, non nata dalla mia fantasia ma dalla fantasia del mondo, perché ho raccontato una storia realmente successa, che peraltro mi è stata raccontata da un altro amico un sacco di anni prima, si chiama Giovanni Gasti Junior, e poi io ci ho raccontato sopra invece un'altra storia, quella di Pietro Evasco. e non l'ho fatto da romanziere, l'ho fatto da appassionato di bene, di rapporti per bene. Ok, e invece con noi di San Patrignano come ti sei avvicinato? Cosa pensi di We Free Days? Volete farvi dei complimenti? Volete sentire dei complimenti? Tutto il bene che posso, penso benissimo, è una giornata divertente, è una giornata a parte che c'è un sole simbolico secondo me, noi siamo arrivati ieri sera con un grande diluvio e stamattina quando mi sono svegliato, mi sono svegliato emozionato e col sole, perché sono due bei risvegli, no? Perché poi intanto se ti svegli emozionato vuol dire che sei già pronto per una strada, cioè non è che ti svegli assonnato, impigrito di malumore, no, emozionato. Così almeno quando sono arrivato qui ero già sul binario giusto e ho incontrato degli sguardi molto leali e delle parole molto confortevoli, pensavo di dover essere, pensavo di trovarmi più in difficoltà invece siamo stati accolti con grande generosità. Ok, grazie di essere qui con noi allora. A voi. Ciao. A voi, ciao, ciao.